Vittoria all'ultimo istante per il Gimigliano nel confronto con il Gasperina giocato sabato. Una vittoria trovata proprio per il gol di Gigliotti al novantatresimo che ha consentito alla squadra di casa di ribaltare il risultato. È stata in sostanza una buona partita con un buon primo tempo giocato dalle due squadre, in particolare si è fatto vedere il Gasperina che però è riuscito a passare in vantaggio nel secondo tempo al dodicesimo con Stagliano su calcio di rigore. Calcio di rigore che peraltro è stato considerato abbastanza generoso nei confronti della squadra di Piero Fodero. Probabilmente questo errore ha condizionato l'arbitro che pochi minuti dopo al settantanovesimo ha dato un calcio di rigore anche alla squadra di casa accendendo un pochettino gli animi e portando la partita sul finale del 2-1 proprio anche per la doppietta, come dicevamo, dello stesso Gigliotti. Amaro in bocca per la squadra ospite e sperava di tornare con almeno un punticino dalla trasferta di Gimigliano, così non è stata molto importante invece i tre punti per la squadra di casa.